Dopo il comunicato di Heinz Peter Hager, di cui abbiamo dato notizia sabato, il sindaco di Riva ad Alberto Mosaner è piuttosto seccato. Hager coordina la società che in gennaio ha acquistato il compendio immobiliare dell'area ex Cattoi di 19.000 metri quadrati per 4,9 milioni di euro. Gli appelli al dialogo da parte dell'imprenditore sud-tirolese pare che cadano nel vuoto, in quanto il sindaco fa sapere che preferisce sedersi attorno a un tavolo a discutere, alla pari, e non con la spada di Damocle sulla testa. Le parole di Hager nel comunicato, infatti, sono sembrate piuttosto ostili al primo cittadino rivano. L'unica cosa che Mosaner fa sapere è che è in corso l'istruttoria urbanistica, avviata in municipio a seguito della scadenza del piano fascia-lago per le parti non attuate e che del futuro dell'area ex Cattoi parlerà semmai a istruttoria conclusa. Il piano fascia-lago, elaborato dieci anni fa da Alberto Cecchetto, decise che si potevano costruire 18.000 metri cubi di case, un 15% di servizi e una parte di negozi.